Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia Questo è Digitalia Settimana del 24 luglio 2023 Twitter diventa X Alexa e i tradimenti coniugali Apple brevetta la mela Ma anche Wearable, Oppenheimer, Palm Pilot Questo è molto alto in scaletta per un'ora e mezza Dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana Dall'emistudio di Guardia 1 di Sanremo Qui a Franco Solerio Dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio E dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi Buongiorno a tutti cari digitaliani Bentornati all'ascolto della vostra trasmissione preferita O quasi, se ci ascoltate Vuol dire che quantomeno quasi preferiti siamo E bentornati ai miei colleghi Francesco Facconi Eccoli Ciao Francesco E Michele Di Maio Reduce Che sono io Reduce da una tempesta di ghiaccio Pare che abbia attraversato Ghiaccio, vento Reduce invece dalla nuova moda dei concerti rock Che mi inizio a raccontare Perché adesso i concerti rock Non si vedono e non si sentono Questa è la nuova moda Poi vi racconterò Ma chi è stata Lucca sa di cosa sto parlando Perché i social Se le ho sentito dei muse Che avevano avuto problemi E ma i blur sono andati meglio Loro grandissimi Un pochino meno Tutto il resto Ma va bene Salutiamo gli amici di Lucca Ma raccontaci 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 Ci hai messo la pulce nell'orecchio Ci lasci così No 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 Insomma c'è un po' di Malumore su quello che è stato un concetto bellissimo Dal punto di vista artistico Dal punto di vista tecnico Un filino meno Ecco Tipo non si è sentito e visto niente Però va bene Andiamo Se hai sentito Immagino che l'audio Non neanche hai visto E questa è la cosa più Cosa hanno messo un telo nero davanti al palco Che cosa è successo? Eh beh guarda Sarebbe stato quasi meglio No 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 Va bene insomma Comunque Fa il misterioso Facconi Fa il difficile Tire Per questo oggi sta un po' sfastiriato Perché non è andato bene il concertino Michele fai il ferrista Michele Pinze Vai Un giravite se vuoi Apra la bocca Facconi Apra la bocca Eh dai Il cacciavite da sempre Eh dai sbottonati Che concerto era? Eh sono andato a sentire i blur Eh E che avevano un po' di problemi di audio E soprattutto di me Sai i mega schermi per vedere quando sei molto lontano? Ah perché tu eri molto lontano? Eh Povero Non solo io Però erano altezza terreno Quindi non Ah quindi erano nascosti dalla Erano nascosti dal resto della folla Quindi i mega schermi Eh sì però in teoria dovrebbero essere grandi E messi in alto Non c'è con i vesti in basso Quindi insomma E vabbè Che ha preso i 32 pollici alla copp E li hanno piassati Hai protestato con i blur Li hai chiamati? Demon Non alburn Ho salutato Demon Invece Demon Demon grandioso Però Scusiamo Demon Demon che ci ascolta Assolutamente Francesco Francesco Abbi pazienza Sei andato a un concerto Non ha funzionato un cacchio Suonavi tu a questo concerto? No Hai organizzato tu il concerto? No Hai pagato per questo concerto? C'hai 40 mila? Eh vabbè Eh vabbè O quello che costano i concerti al giorno Dai Dai C'è di peggio C'è di peggio C'è di peggio Dai Vabbè La musica non si ascolta più dal vivo Si pirata La musica la devi vivere La musica si pirata Michele Ha proposto questo follow up Io penso che sia Io penso sia un follow up D'attacca brighe Nei miei confronti Per qualche corbezzoleria Che potrei aver detto La settimana scorsa Però prego Michele Perché hai tirato No vabbè Ma è interessante Dai raccontacela Michele Se tu ti senti Tirato in gioco Adesso non abbiamo la registrazione Della scorsa puntata Quindi non possiamo Dobbiamo essere sicuri Di cosa è stato detto Chi ha detto cosa Soprattutto però C'è la pagina di Wikipedia Quindi una fonte mediamente affidabile E cito La pagina è Music Piracy E dice Le statistiche mostrano Che dall'inizio dei primi anni 10 C'è stato un declino Nella pirateria musicale Secondo a un questionario MPD Nel 2012 Circa un utente su 10 Sull'internet Negli Stati Uniti Scaricava la musica illegale Tramite BitTorrent LimeWire Eccetera eccetera Questo numero È significativamente meno Del 2005 Il picco Del fenomeno pirateria Quando un utente Su 5 Scaricava Dalle reti Peer to peer E niente Praticamente L'emergere Di servizi Streaming Gratuiti Ha Diminuito Il numero Di utenti Che piratano La musica Come Spotify E Pandora Passa Non ho nient'altro Da dire Vostro onore Possiamo passare avanti Ma non capisco L'aggiunta Quanto ho detto La settimana scorsa Le date Sono chiare Sì Le date Sono chiare Nel 2005 Si scaricava Da iTunes Una canzone A un dollaro Nel 2010 Nel 2010 Grazie ai servizi Di streaming È quel grazie ai servizi Di streaming Che mi resta stretto Diciamo che La vendita La facilitazione Della vendita Della musica Via internet Prima Con gli store A un prezzo onesto E poi con lo streaming Hanno causato Questo calo Perché dire che Dal 2005 Al 2010 È scesa Per merito Dei servizi Di streaming Mi sembra Un pochino Fuori tempo Spotify Ha iniziato Le sue operazioni Nel 2007 Ma come A livello globale Fuori dagli Stati Uniti A livello globale Ha iniziato a operare Alla fine Del primo decennio Direi Così a naso A occhio iTunes Ha iniziato Pandora era arrivato Prima di Spotify Negli seri Ma non possiamo dire Appunto Ma non possiamo dire Che la pirateria È scesa per Pandora Che avevano 14 utenti E il cugino Di Facconi La pirateria È iniziata a scendere Non lo so La pirateria È iniziata a scendere Nel momento in cui Si è trovata facilmente La musica Su internet Che prima Non c'era Semplicemente Prima dovevi Comprarla Dal tuo negozio Di dischi E smasterizzartela E convertirtela In mp3 Che era ben più complicato E si faceva Assolutamente prima Oltre che gratis Andare a scaricarla Sul mulo I donno Poi è così Io ho smesso Di piratare Io ho smesso Di piratare la musica Quando è iniziata A vendere La musica Su le 2 store Per cui La pirateria È scesa In quel momento A casa doc Così funziona Il mio campione No dai Non c'è dubbio Che Entrambe le cose Abbiano In Italia Quando è arrivato Spotify in Italia Data Spotify È una decina D'anni Secondo me E quindi appunto Se La piattaforma Streaming svedese È stata lanciata Nel 2008 È arrivata Nel nostro paese A febbraio Il 2013 Per cui Mamma mia Che precisione Per cui Dire che dal 2005 Al 2010 È scesa La pirateria Grazie ai servizi Di streaming Mi sembra un po' Tirata per i capelli Adesso chiamo Wikipedia Il signor Wikipedia Gli chiede Eh sì ma Wikipedia ti frega Perché come al solito Stavo cercando I riferimenti A questa notizia Eccetera Ma poi Il link Non ci sono Perché se tu Modifichi un articolo Di Wikipedia E dici che Michele Ha due occhi E due orecchie E una bocca Ti dicono Eh notizia non confermata Non c'è un link Non c'è una fonte Poi ti scrivono Queste robe qui Il 12,2% In 13 secondi e 8 Dici la fonte Ah ma non importa Queste sono Lo sanno tutti Eh vabbè Però è Wikipedia Il grande libro Della conoscenza umana Twitter Anzi X Da oggi pomeriggio Ora italiana Abbiamo cambiato nome Alla piattaforma Abbiamo visto Cambiare nome Alla piattaforma La La CEO La nostra Linda Iaccarino Anzi meglio Iaccaraino Lo chiamano così Gli americani Linda Linda Iaccaraino Che dice X is the future state Of unlimited interactivity Quindi X è lo stato futuro Della interattività illimitata Che già Cosa vuol dire Whatever It means Vuol dire X Vuol dire X Centrata sull'audio Il video La messaggistica E pagamenti E il banchismo Banking ovviamente Si traduce Banchismo Che crea Un global marketplace Per le idee I beni I servizi E le opportunità Powered by AI Quindi Alimentato a Intelligenza artificiale X ci connetterà tutti In modi che stiamo Solo cominciando A immaginare Si Una serie di tweet Che secondo me Me li creava Pari pari ChatGPT Poi la differenza Tra chatGPT E un ufficio PR L'ha detto lei Powered by AI Esatto Powered by AI E certo E no vabbè Niente di Niente che non fosse Già atteso Musk lo aveva detto Musk lo aveva fatto Cambiando il nome Dell'azienda Twitter Quindi oggi La carta intestata Che esce da Twitter È a nome X Corp Esatto E niente Io l'unica cosa Che mi viene da dire È che questo È un grandissimo Simbolo Una grandissima metafora Del narcisismo Di Elon Musk Che ha deciso Di buttare Nel gabinetto Poi Almeno ci prova Una delle Cose più grandi Che a Twitter Che è il suo brand Oggi vai su Su Mastodon E ti diventa Difficile Scrivere Senza dire Ho twittato Vero Vero Tuitare è diventato Qualcosa Di Anche a livello Di immagine A livello L'uccellino L'uccellino Che è qua La riconoscibilità Anche del colore Sono tutte cose Che oggi Lui Per un moto Di narcisismo Perché poi Questa storia di X Lui se la porta Dai giorni di Paypal Il voler creare Questa Anche prima Nel senso che X.com Il dominio Era già suo Era la banca Che è stata poi Acquisita Si è fusa Con Paypal Per poter dare Modo di Fare per gestire Pagamenti Conte correnti A Paypal Ed era Elon Musk I tempi della Paypal Mafia Esatto Quindi è stata proprio X è confluita in Paypal Ed è tornata X Da questo punto di vista Quindi banca era Banca tornerà Vedremo Comunque Questo piano Probabilmente è nell'aria Si sente L'idea di utilizzare Uno dei caratteri Dell'alfabeto Come nome dell'azienda È già una roba particolare Io capisco Che avesse il dominio di E non sapeva Che cosa farci E può anche andare bene A livello di interfaccia utente Utilizzare il logo Della compagnia Che è uguale Al tasto per chiudere Le finestre È un altro colpo Di genio Di design E forse Contro l'X Ma guarda che Non è la X è bassa È la X col double stroke È così evidente Ah beh Ok Fantastico Fantastico E fra l'altro X Corp Non è un po' come La E-Corp Ma certo Di Mr. Robotiana Memoria Ah ecco a cosa mi ricordava Più breve Esatto Non solo nel nome Possiamo postulare Possiamo formulare Un postulato Che più breve È il nome della corporation Più cattive Sono le sue intenzioni Lo chiamiamo Il postulato Di Digitalia Va bene Cosa ci dobbiamo fare Intanto il suo Il suo di lui Di Elon Musk Biografo Ha detto che Elon Musk Non ha una naturale Propensione Per l'empatia O per le emozioni Non ce ne eravamo Grazie Walter Isaacson Secondo me questa È un'altra di quelle cose Che mancano di riferimento Sulla fonte di Wikipedia Perché non ci posso credere No? Beh adesso Si è scritto su Wikipedia Adesso finalmente C'è una fonte Lo ha detto Walter Isaacson Che ve lo ricordate Perché ha scritto La biografia di Steve Jobs Che era un altro Che ha empatia Insomma Sprizzava scintille E lui si la fa solo Con i migliori Non so se avete letto Avete letto La biografia Bellissimo Della figlia Della figlia Inizialmente illegittima Non riconosciuta Più che altro Di Steve Jobs Lisa Lisa Brennan Jobs Ricordo male Non l'ho letto Brennan è il cognome suo E il cognome della nuova moglie Non ricordo Mi 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 li confondo Comunque si chiama Small Fry Pesce piccolo È molto bello È molto bello E c'è un passaggio Che fa venire Dei brividi lunghi così Perché a un certo punto Lei che vive Questa situazione Un po' dentro Un po' fuori Dalla famiglia A un certo punto Va a vivere con Jobs E la nuova moglie Eccetera Ma Ha questa grossa Carenza affettiva Eccetera A un certo punto Li ferma in cucina E chiede a Jobs E alla moglie Ma è possibile Qui io Ma mai Neanche un abbraccio E la moglie di Jobs Gli ha risposto No queste cose In questa famiglia Non usano Gli abbracci Ok Va bene Perfetto Ecco Isaacson Che ha scritto La biografia Di un personaggio Del genere Ha detto Che Elon Musk Non è particolarmente Portato per l'empatia Immaginate Da che livello Di riferimento Avesse E possiamo stare tranquilli A quello che succederà A X Nei prossimi Mesi e anni Però Boh Ha portato a termine La sua opera Che era quella Di distruzione Per Ripartire Ha una sua logica Twitter era Destinato a un lento A una lenta agonia A un lento fallimento Considerato quello che era L'andamento dei suoi conti E delle prospettive E lui ha detto Bene Bisogna prenderlo Spaccarlo Distruggerlo Pagarlo più del dovuto Pagarlo più assolutamente E poi Dalle sue ceneri Nascerà Come la Barbara Bafenice E la X Fenice Ok Il piano A La prima parte Del piano Ha funzionato Adesso vediamo La seconda E Diciamo che Con questo Con questo Uccisione del brand Ha concluso Degnamente La prima parte Della cosa Certo Schumpeter La distruzione creatrice Eh certo Perché te pensi Che abbia finito Ma può ancora andare avanti Sì Inora Può far metà della gente No Ha licenziato Altra metà della gente Può fare causa A se stesso Può fare causa A Twitter Da parte di X Non so Può succedere di tutto Con Elon Musk Non c'è mai da Non c'è mai da 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 Annoiarsi Ecco Due secondi I nostri contatti Se se proprio Volete chiacchierare Con noi Beh il posto migliore Il nostro Slack Digitalia.fm Slash Slack La chat multicanale Dove Ci sono tutti Digitaliani Si chiacchiera Tutta la settimana Degli argomenti più vari E girano anche Molte notizie Di cui poi parliamo In trasmissione Spesso le prendiamo di lì E poi su Nastodon Dove trovate Digitalia.fm At Nastodon.1 Che è l'account Aziendale Possiamo dire così Michele di M At Livellosegreto.it Francesco M Di Sol At Livellosegreto.it E il sottoscritto Franco Solerio At Mastodon.social Il bocchettone In fase di realizzazione Si lo so Avevo detto Che l'avrei preparato In settimana Per ora Andate ancora A sentire Quello su X Che è Twitter.com O X.com A sto punto Non so se funzionino Già i link Qualcuno Qualcuno oggi Diceva che non avevano Neanche ancora Registrato Funzionano Funzionano Sì ma senza X.com Slash Digital FM Ma funziona HTTPS Perché oggi pomeriggio Pareva che non avessero Ancora creato Non avevano ancora creato I certificati Quando li hai fatti tu I certificati No Pensavo li facessi tu No 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 Funziona Redirige Perlomeno Non mi ha mostrato Errori Nella redirizione Redirige Quindi X.com Digitali Underscore BC Bocchettone Bocchettone No Backchannel Vabbè Di lì passano tutte le notizie Che prendiamo in considerazione Per Parlarne eventualmente In trasmissione Qui è proprio Una fontana di notizie Una roba Tipo Vabbè Privacy 1 Abbiamo Più capitoli Sulla privacy Privacy 1 Si apre con Questa Ragazza Del Nebraska Che ha utilizzato La pillola Per Terminare Una gravidanza E Si è beccata Una condanna Da 90 giorni Di carcere Come è stata Intercettata Come è stato Capito Come è stato Scoperto E cosa è stato usato In tribunale Perché aveva Fatto questo Perché ne aveva Parlato con sua madre Sulla chat Di messaggistica Quindi teoricamente Privata Di Facebook Esatto Storia brutta 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 Anche perché Oltre al tema Appunto La ragazza La ragazza E la madre Erano sotto Inchiesta Da parte Delle autorità Del Nebraska Dello Stato Del Nebraska Si come dire Questa storia appunto Di privacy Di presunta Infiltrazione Della privacy E così Intreccia Poi Con tutte Quelle Che sono Le nuove Leggi Le nuove Leggi Sull'aborto Nel frattempo Sta venendo giù Un altro Temporale Tropicale Qui a Milano In realtà Michele Ci hanno già Segnalato Oggi Sul Mastodon Che In realtà Le leggi nuove Sull'aborto Centrano Un poco No in questo caso No anche perché Peraltro Non è Peraltro E attenzione E' vero Nel senso L'aborto E' stato Converato Nel terzo Esatto Nel terzo trimestre Quindi sarebbe Illegale anche in Italia Però appunto Il perché Si è arrivato lì E comunque Quando le conversazioni Risalgono Credo Alle prime 22 settimane Se non ricordo male Quando appunto Per le leggi Del tempo Non poteva comunque Praticare Praticare L'aborto E quindi Per quello Si è andati Verso quest'altra Sono andate Verso quest'altra strada Ovviamente Articolo dedicato A quelli che Come dicevamo Su Mastodon Se non hai niente Da nascondere Perché ti preoccupi Della privacy Che è L'argomento Più stupido Che viene portato Spesso In questo tipo Di situazioni Anzi Prima di questo tipo Di situazioni Situazioni Di 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 polemica Riguardo a Andiamo avanti Sempre nel campo Della privacy Questa Intelligenza artificiale Sorveglia Milioni di automobili Ogni giorno E dice ai poliziotti Se tu stai guidando Come un criminale Non nel senso Che vai a 300 Esatto L'articolo Il titolo fa pensare L'articolo fa pensare Guidi come un criminale Se ti metti su due ruote In via Roma Molto più interessante Eh prego Se fai la strada giusta Dei crimini Se fai la strada Se sei sulla strada Del crimine Ecco Ma allora Mentre sul precedente Articolo Ero Penso che fossimo Tutti abbastanza Sicuri Concordi Nell'indignazione Io qua Non sono sicuro Di essere indignato Cioè è sicuramente Una storia interessante Ovvero Grazie all'uso Di un sacco Di telecamere Fisse Più quelle mobili Installate Sulle macchine Delle pattuglie Dei vigili Nello stato del Non me lo ricordo Nei Stati Uniti Eh hanno fondamentalmente Sono riusciti a tracciare Il movimento Di tutta una serie Di automobili E per dire Quelle che fanno Appunto Percorsi Che più potevano portare Queste persone A essere Dei professionisti Nel mondo del commercio A dettaglio Di sostanze Sotupefacenti Così facendo Appunto Hanno trovato Hanno fermato Pizzicato Questa Questa persona Che stava guidando I limiti Su una strada giusta Con la cintura Tutto in regola Anche troppo Volendo E giustamente Gli hanno trovato A quel punto Un carico imprevisto Che Appunto Non ci sarebbero Sati altri motivi Se non L'uso Di questi Algoritmi Di predizione A te Non preoccupa Perché lo vedi Dal punto di vista Del risultato O almeno Del risultato Noto Intanto Non ti dice Quanti falsi Negativi Per cui Quante persone Che facevano La stessa strada Sono state messe Sotto la lente Di ingrandimento Da polizia Hanno subito Magari Hanno subito Magari Delle perquisizioni Sono state Oggetto Di Sono state Fermate Hanno perso La giornata Al lavoro E gli hanno puntato Una pistola Gli hanno messo Una pistola In bocca Come usano Generalmente I poliziotti Da quelle parti Per capire Tu Criminale Su questa strada Dove stai andando Il problema È quella Che si chiama Pesca strascico Cioè cercare Da dei dati Che possono essere Assolutamente Onesti E puliti Eccetera Per forza Cercare di capire Il colpevole È pesca strascico È proprio quello Che è tipico Di uno stato Di sorveglianza Di uno stato Di polizia È un po' meglio Dell'attuale pesca strascico Se non hai la faccia bianca Va bene D'accordo Ma è un po' meglio Non basta È anche meglio Dei campi di concentramento Ah certo In camboggia Sotto col pot Certo Certo I quali a loro volta Sono leggermente meglio Di quelli nazisti Con le docce Con i gas I quali sono E la riduzione Però ragazzi Infatti io avevo messo Pol Pot in mezzo Pol Pot fa da cuscinetto Tra Hitler E cose Tra le polizie Attuali Va bene Fantastico Bene Il cuscinetto di Pol Pot Che tra l'altro Ha un nome che fa pensare A una cosa cuscinosa O una polpetta Fa pensare le polpette Esatto Una polpetta È una cosa che può fare Un po' da Da tutire Siamo sempre in follow up La settimana scorsa Abbiamo parlato A proposito di sorveglianza Delle automobili Autonome Che girano per gli Stati Uniti Che vengono utilizzate Dalla Dalla polizia americana Per di fatto anche qui Fare sorveglianza Un po' a tappeto E quindi trasformando Queste vetture Di fatto In un'estensione Del grande fratello Che è già Stato iniziato Con le telecamere Installate dai municipi Più quelle Dei citofoni Connessi I vari Amazon Ring E robe del genere Il nostro Massimo Canducci Ci ha mandato Un te l'avevo detto Che Con un articolo Suo su Repubblica Che Pagamenti Salute Sicurezza Cosa può fare Un'autoconnessa Dove parlava Già un anno fa Più di un anno fa Di questo tipo Di rischi e problematiche Dal punto di vista Appunto Sia positivo Sia negativo Ne approfitto Perché il nostro Massimo Canducci Amicissimo di Digitalia Ci ha mandato Mi ha mandato L'ultima copia Del suo libro Vite aumentate Che sto leggendo In questi giorni E che vi consiglio Ovviamente Massimo Scrive dei Gran bei libri Digitaliani Vite aumentate Le tecnologie E il futuro Che ci aspetta Quali sono le tecnologie Più interessanti Di oggi e domani Come si relaziona Le une alle altre Insomma Trovate tanti spunti E tante citazioni Anche delle notizie Delle stesse notizie Di cui sentite parlare Settimanalmente Qui su Digitalia Ma non è finita Quei libri Perché c'è qualche sorpresa Dopo State pronti Tenetevi connessi E se volete un consiglio Non saltate il capitolo I produttori esecutivi Perché ci sono sorprese In arrivo Amazon Ha detto ai suoi guidatori Dei vari camioncini E delle consegne Di non preoccuparsi Per quelle telecamerine Installate lì Dentro All'abitacolo Non preoccupatevi State tranquilli Tanto È una cosa Tra di noi Una frase inizia Anzi Quando una corp Dice Non preoccupatevi Che Sappiamo già Come va a finire Esatto E in questo caso Si tratta appunto Di questi dispositivi Con telecamera Che sono stati installati Nei camioncini Dei Amazon Delivery Service Partner Che sono Quelli a cui Amazon Affida L'ultimo miglio Portare poi il pacco Dal centro di distribuzione Alla casa Alla casa Il Cosa è successo Che piano piano Su Twitter Su Reddit Dove c'è Una subreddit Dedicata Piano piano Hanno iniziato Ad uscire Dei video Registrati Da questi Chiaramente Da questi dispositivi Registrati Proprio Inquadrando lo schermo Di una persona Già telecamere Di sicurezza Che magari Non è che si vedano Così bene Col telefonino Che riprende Il monitor Wow Qualità patata Però comunque Abbastanza Ad esempio Da identificare In realtà Poi ci sono anche Situazioni Ridanciane Il cane Che va a salutare Il postino Di Amazon Il corriere di Amazon Però ovviamente È facile capire Che se una volta Appunto È la cosa Per ridere Del cane Mille altre volte Sarà il controllo Che queste Società Queste aziende Per conto di Amazon Poi fanno Il controllo Che fanno Di questi Dei Corrieri Oltre all'immagine Ovviamente C'è Tutta la telemetria Del furgone La velocità Ovviamente L'orario E così E così via Quindi da una parte C'è il problema Del controllo Sul lavoro Di queste Di queste persone Dall'altra poi La fuga Di dati Presso I partner Che appunto Si finisce Poi sempre Che i video Vengono pubblicati Per farsi due risate Ma c'è qualche Sistema di telecamere Che prima o poi Non è finito online Cioè ci sto pensando Veramente Già il Roomba Che aveva la telecamerina Certo Usato Cioè nel senso Ed è sempre Amazon Tra l'altro C'è un detto Che usava molto Un po' di tempo fa Nei circoli Cypherpunk E roba del genere Che è Information wants to be free Cioè noi Ci ostiniamo A pensare Che l'informazione digitale Possa in qualche modo Essere circoscritta Bloccata DRMizzata Ma non c'è niente Da fare L'informazione Vuole essere libera Nel momento in cui abbiamo Abbracciato il mondo Di cavi e fibre ottiche E messo in comunicazione Tutti i computer E tutte Non c'è speranza Che l'informazione Non circoli L'informazione Circo Circolerà E il video Come hai fatto giustamente Notare tu Francesco Prima o poi Se c'ha qualche cosa Di curioso Che può interessare Anche solo Un tot di persone In un angolino di Reddit Inizierà a girare In quell'angolino di Reddit Non c'è niente da fare Esatto Poi il vantaggio La cosa positiva È che una volta Che emerge Almeno poi Vengono scritti articoli Anche Anche di denuncia E viene portato Alla conoscenza Del pubblico Altrimenti Servirebbe Un leaker Per farlo In realtà Anche questi sono leaker Ecco Però con scopi Non necessariamente Eroici Ecco No Eroici Né per forza Malevoli Ma Non conta L'informazione Viaggia libera Scopre Il tradimento Del fidanzato Chiedendo ad Alexa Dove si trova? Michele sospira No io sospiro Vabbè innanzitutto Perché questo è un articolo Di aprile Di cui ho provato A cercare Non so perché è venuta fuori A tutti Red flag Di una cagata bestiale No Non è Red flag Aspetta Vorrei leggere Un paio di passaggi Alessia Nome di fantasia Cerca Marco Nome di fantasia E Alessia Nome di fantasia Per quante volte C'è scritto Un nome di fantasia L'abbiamo capito E no però Ho provato anche A indagare Se ci fossero Delle fonti Se magari Qualcuno Il cugino Di un giornalista Che ha parlato No Non sono riuscito A trovarne Però Se lo cerchi Se lo cerchi La stessa notizia Ha girato su Più testante Niente di Particorale E tale quale Copia e incolla Ti hanno fatto Conosci qualche articolo Oggi che non sia Copia e incolla Di una press release Del genere E ho capito Qua chi è che ha fatto La press release Nome di fantasia L'ho capito Giornalismo As usual Non lo so Vabbè Attenzione E Alessia Nome di fantasia Che usa Quello che Possiamo Soprannominare Alessia Per non farli Partire In tutte le case Cioè c'è anche Questa raffinatezza Stilistica Del nome Che assomiglia All'oggetto Comunque Esatto Poi facciamo Facciamo finta Che sia successo Davvero E andiamo avanti Con la discussione No no Carità Niente discussione Era un articolo Di colore Buttato lì Non so se voi Volete imbastirci Una discussione Pare che Il motivo Del leak Fosse che Il tizio Aveva collegato Il telefono In qualche modo Ad Alicchia E che Alicchia Avesse in qualche modo Accesso Scaricato Accesso A i messaggi Del tizio Non è particolarmente Dettagliato Prima gli ha dato l'indirizzo Ok E quindi Allora Prima dice che ha dato l'indirizzo Poi a quel punto Ha chiesto Leggimi l'ultimo messaggio L'ultimo messaggio È a tesoro Ti aspetto per un minuto Qualcosa del genere Su altri articoli Invece ho letto Tra virgolette È dall'amante Quindi Alicchia Che proprio La salsera Ha fatto il passo successivo D'altra parte È capitato Che Amazon Propone Magari l'amante È Alicchia Il nome è lo stesso Sono i robot Che seminano Zizzania E prendono Iniziano a prendere Iniziano a prendere La rincorsa Per la rivoluzione Dei robot Ci sono anche buone notizie Però Apple dice che Rimuoverà I messaggi FaceTime Nel Regno Unito Piuttosto che Rompere La crittografia End to end Si riferisce ovviamente Alla proposta Di legge inglese Che renderebbe Illegale La cifratura End to end Su tutti i nostri dispositivi Ed è già Un punto fermo Abbastanza importante Quello da Da parte di Apple Ovviamente Volto a Provocare Un qualche Sommovimento Nell'opinione pubblica Perché L'idea L'idea è quella Non è quella Si ha mandato Una letterina Un messaggino In realtà Poi è diventato Otto pagine Alla fine Per Spiegare appunto Il perché Questa legge Non sia ideale Ma cercando poi Di far leva Sul Sull'evitare Appunto Di dover Aprire i suoi sistemi Mi chiedo Se in realtà Becton Non esistano già Visti altri regimi In cui comunque I messaggi C'è Però Forse sono malpensante Io Sicuramente È un È un messaggio Forte Ecco Da questo punto Di vista Tu pensi Che gli iPhone Venduti in Cina Ad esempio Non abbiano La crittografia Forte Non lo so Per esempio Ci sono delle differenze I server Sì In Cina È vero È vero Basterebbe utilizzare Una crittografia Non end to end Ma end to server Non lo so No Anche un end to end Dove Anche un end to end Dove una copia Dove una copia Delle chiavi È posseduta Da Quindi end to end To Third party End to end to end Come È così È cosa È certo C'è niente da fare E per una buona Che ne fa Apple Ci pensa subito Il dipartimento successivo A cercare di tirare giù Il nome Sembra che Apple Stia cercando di Brevettare la mela Fondamentalmente Di registrare La mela Come simbolo Come marchio Ma non la mela Morsicata In bianco Su sfondo nero Proprio Dici se qualcuno Utilizza una mela Quando andremo al supermercato Se va avanti così Mi dia un pacchetto di mela Sì guardi sono un euro al chilo Più La tassa Due euro e novantanove Di iTunes Ma come Sono molto arrabbiati Quelli del sindacato Dei fruttaroli svizzeri In particolare Ma l'articolo L'articolo Che è Del Di Wired Dice che in realtà L'ufficio legale di Apple Si sta muovendo In questa direzione Da un po' di Già in altri paesi Ha già ottenuto Qualche cosa del genere Dice Ed è la Fruit Union Swiss Che è Credo che sia una specie Di col diretti svizzera Una roba del genere E Un Beh insomma È preoccupante E preparati a pagare i diritti Non è Non è una bella Non è una bella cosa Cioè è proprio Arroganza No L'idea che Una corporation Possa permettersi Anche solo Di Di pensare Di avere diritto Su un qualche cosa Di universale Come una cacchio di mela È veramente Una roba vergognosa Era divertente Ai tempi Quando se le dava Coi Beatles Adesso Un po' meglio Sì Coi Beatles Che avevano iniziato In amicizia Sì sì tranquilli Non faremo mai musica E poi si è vista Come è andata Io suggerisco a Apple Di iniziare con l'Apple Pie Ce l'hanno lì vicino Secondo me partono da lì Potrebbero mettere una mela Una torta In tutti gli Apple Store Per i clienti Chiamarla Apple Pie Certo Dopo un po' Breditarla Ci mancherebbe Certo Roberto ci suggerisce Di registrare Il nome Italia Eh ci potremmo fare La cosa Esatto Certamente Chiamo l'ufficio legale Sì Pronto Va bene Una nota triste Una nota triste Perché ci ha lasciato Kevin Mitnick Che è Il Condor Eh sì Io Mi Mi ricordo i giorni Dell'arresto Subito prima dell'arresto Che c'era questa caccia all'uomo Che aveva riverberato Fino dalle nostre parti Erano Erano gli anni Del Erano gli albori Di internet Erano gli anni Di CompuServe Io mi collegavo In rete A Torino Con la dial app E si parlava Di sto tizio Che riusciva A scappare L'FBI Più volte Per il rotto Della cuffia Aveva a disposizione Migliaia di Di numeri Di telefono Clonati E poteva passare Da uno all'altro Eccetera Poi lo beccarono Per i giovanissimissimissimi Perché veramente Se no Kevin Mitig È l'hacker Cioè proprio il L'hacker più famoso Che si è mai esistito Probabilmente Quello che ha inventato Il Il social engineering Cioè invece che cercare Di inventare Di indovinare la password Chiamava la segretaria Che deve leggere Quello che c'era scritto Sul post-it E tipicamente funzionava E Quindi sicuramente Un grandissimo Comunque dell'informatica Perché si sa Gli hacker Anche se Lavorano magari In terreni grigi All'inizio sicuramente La sua carriera In terreni decisamente Molto poco corretti Però contribuiscono poi A migliorare Tutto quello che abbiamo Fra le mani Noi in questo momento Quindi Salutiamo Il grande condo Mitnick era Movimentato Dal vero spirito hacker Che non era Quello dell'arricchimento Del danno Della truffa Necessariamente Ma quello Della conoscenza Noi Leggete lo libro Ve lo consiglio È quasi un fondamentale Digitaliano Si chiama Ghost in the Wires È veramente Veramente bello Racconta in maniera Molto Molto Sincera L'ha scritto Dopo essere stato Scritto Dopo essere uscito Di prigione Per cui In totale sincerità Non aveva più Niente di cui Poteva essere In qualche modo Accusato E fondamentalmente Iniziavano A cercare Di hackerare Le centrali Telefoniche E entrare Nei sistemi Delle telco Per rubare Cosa Per rubare I manuali Delle centrali Telefoniche Per capire Come funzionavano E come fare E la roba Più figa A quei tempi Era quella Di riuscire a fare Che ne so Dalle telefonate Intercontinentali Senza pagare niente E farlo vedere Agli amici C'erano Fischettando C'erano i famosi Fonfreaker Che utilizzavano Inizialmente Il primissimo O il più famoso Dei pirati Dei Fonfreaker Della prima ora Era Captain Crunch Che si chiamava così Perché utilizzava Il fischietto Che veniva regalato Nelle confezioni Di cereali Captain Crunch E con quel fischietto Lì riusciva a modulare La stessa coppia Di toni Che Le centrali A cui rispondevano Le centrali telefoniche Sbloccando La telefonata gratuita Come nota di colore La prima Il primo Prodotto Elettronico Non ancora Marchio Apple Ma Prodotto e commercializzato Dalla coppia Steve Jobs Steve Wozniak Era proprio Una blue box Che erano Appunto Questi dispositivi Non più a fischietto Ma elettronici Per generare I toni Che servivano A sbloccare Le funzionalità segrete Dai telefoni pubblici E' stato Il primo Gingillo elettronico Prodotto da Wozniak E' venduto Da Steve Jobs E vabbè Bella è storia Della E' un pezzo di storia Quindi Della Della nostra IT Che Che se ne va E' appunto Leggetevi Se vi va Di conoscere Questo pezzo di storia In maniera Un po' più a fondo Leggetevi il libro E Ai tempi Era nei tempi Della fobia Nei confronti Di chi sapeva Queste cose Che apparivano Come stregoni Il pubblico ministero Che lo accusava Di fronte al giudice Gli fece dare Mesi e mesi e mesi Di isolamento In carcere Dicendo In tribunale Che Kevin Mitnick Con un telefono In mano Avrebbe potuto Scatenare Una guerra nucleare Semplicemente Fischiettando Nel telefono Che è una roba Però quella Era War Games Secondo me Ha visto E' una roba colossalmente Assurda Però il giudice Ci credette A proposito Di istituzioni Che non capiscono Un cacchio Di tecnologia E quindi Gli diede Otto mesi Di isolamento Una roba del genere Il divieto Di toccare Qualsiasi strumento Tecnologico E qualsiasi telefono Che non fosse Un telefono A gettoni Senza la Senza la La tastiera Cioè Della roba Allucinante Oh ragazzi Ciao Kevin Ehm Produttore esecutivi Non saltate Questo pezzo Perché Iniziamo a farlo Un po' più gustoso Con i messaggi I nostri digitaliani E oggi ci sono pure I regali I produttori esecutivi Sono la linfa vitale Di Digitalia Noi li ringraziamo E gli facciamo anche Dei regali oggi Perché Perché Digitalia Fondamentalmente Si basa su quello Questa è una delle puntate Che preferisco io Senza sponsor Solo produttori esecutivi Solo noi e voi Noi produciamo Voi ascoltate Noi lavoriamo Voi ci date qualcosa In cambio Da altre parti Il value for value Valore per valore Lo declinano In tre In tre entità Che sono le tre T Time Talent And treasure Per cui Potete darci un po' Del vostro tempo Potete darci un po' Del vostro talento Potete darci qualcosa Del vostro tesoro Ovvero qualche soldino Il soldino è la cosa più facile Ci mancherebbe Noi ci accontentiamo di poco Tant'è che non vi costringiamo Né a una quantità Né a una cadenza Il tempo E il talento E beh Se volete Fornirci qualche servizio Crearci qualche sigla Qualche messaggio audio Su degli argomenti Se volete partecipare Scrivendo su Slack Mettendo Gli articoli Che vi sembrano più interessanti Commentandoli già su Slack E quindi dandoci del pane Della materia Della materia prima Per la trasmissione Anche quello è Time and talent Insomma Time, talent and treasure Intanto ringraziamo Tutti quelli che ci hanno dato Del treasure Con le solite metodiche Che ve lo ricordo Sono facilissime Perché Paypal Satisfay Bitcoin Pagamento non c'è In vecchia maniera Bonifico bancario E più facile di così E poi le app Del podcast in 2.0 Sul lightning network Le cercate Su newpodcastapps.com Noi in cambio Continuiamo a lavorare per voi Settimana dopo settimana E vi ringraziamo In trasmissione Francesco Vuoi darci tu una botta? Con grandissimo piacere Iniziamo con i streamer Del value for value 23 satoshi Arrivano da Alessandro Varesi 1943 Capitan Harlock 2070 Nicola Fort 2214 Daxta 2679 Nicola Gabriele D 3367 Di Lorenzo Pilla E 9461 Gianluca Trevisani Grazie Grazie a tutti i nostri streamers Del value for value Grazie mille anche A Manuel Zavatta E Davide Tinti Donatori perpetui Tutte le settimane Con il loro euro E Nicola Gabriele D Che oltre al Già citato streaming Ci fa anche 2,01 euro Tutte le settimane Li ringraziamo tantissimo Grazie a te Perpetua l'executiva Andiamo avanti 1 euro arriva da Luca Cipollone 2 euro da Alex Pagnotta E entriamo nel gruppo Dei donatori Da 3 euro ricorrenti Ogni mese Ringraziando Alberto Cuffaro Andrea Bottaro Fabio Pilisetti Andrea Malesani Fabio Brunelli Giacomo Cipriani Fabrizio Reina Alessandro Grossi Fabio Zappa Digiatecnologie di Desposito Antonio Simone Magnaschi Marco Traverso Paola Bellini Valerio Bendotti E Giuseppe Marino Mitici Grazie di cuore Mitico anche Davide Belli A 3,21 euro E Gianni B Con i suoi 5 euro One shot Mentre tutte le settimane 5 euro ci rimandano Tutti i mesi Scusatemi Ci rimandano Carlotta Cubeddo Edoardo Volpi Kellerman Andrea Delise Massimo Pollassi Enrico Deanna Alessandro Lago Antonio Manna Roberto Basile Paolo Massignan Antonio Gargiulio E Fabio Flavio Castro Grandissimi Grazie davvero 5 euro tutti i mesi Grazie per la vostra generosità Fantastico Adesso abbiamo una riga rossa La leggo o vuoi dire? No no tu leggile normalmente Vi diciamo solo che alcuni dei produttori Che sentite adesso sono rosa Poi vi spieghiamo perché Sono rosa Vabbè Produttore rosa Con un bonifico da 5 euro e virgola 11 tutti i mesi Daniele Bastianelli E un messaggio Qualche settimana fa ho attivato il mio bonifico ricorrente da 5 virgola 11 mensile E ti mi chiedo perdono per non averlo fatto prima Non ho scuse Vi voglio bene Un grande saluto Anche noi ti vogliamo un bene da matti Daniele grazie di cuore Che capisci Che hai capito Finalmente il valore della proposizione value for value E continua così Dacci la mano Noi continuiamo a lavorare anche per te E ti facciamo produttore rosa Insieme a qualcun altro Lo scoprirai tra poco Andiamo avanti con ringraziando per i suoi 5,32 euro Cristian Pastori e Angelo Travaglione Grazie Idem Carlo Annibale Anche lui Non so perché c'è una riga vuota Grazie Ma rientra nello stesso gruppo Grazie a tutti loro Entriamo ora nella zona grandi produttori Quindi 10 euro in su 10 euro da Vincenzo Napolitano Con un messaggio Buon pomeriggio Grazie a tutti per il vostro lavoro Grazie Vincenzo Grazie Spitto su Riga Rosa Sempre su Riga Rosa Ringraziamo per tutti i mesi 10 euro Ci arrivano da Marcello Marigliano Cambio pagina Fabrizio Mele 10 euro bonifico ricorrente Tutti i mesi E Manuele Paolo Lorenzo Giuseppe M 15 euro di donazione singola Anche lui come Fabrizio Su Riga Rosa Grazie Infine l'idea casaco di producer Su Riga Rosa anche lui Con un bellissimo messaggio Un'altra dose Non basta mai Bravi E i suoi 30 euro Meglio di Breaking Bad Bravizio Gabriele Tubertini Grazie di cuore Mitici Grazie ai produttori esecutivi Per questa puntata I produttori rosa I produttori esecutivi rosa Daniele Bastianelli Vincenzo Norbertano Marcello Marigliano Fabrizio Mele Mauele Paolo Lorenzo Giuseppe M E Gabriele Tubertini Avranno una sorpresa tra poco Insieme a altri tre produttori Da puntata scorsa State online Per capire di cosa si tratta Dovete sapere che Qualche settimana fa Sono venuti allo scoperto Tre Transfughi Digitaliani Ovvero Michele Giulio E Max Che Quatti quatti Di nascosto Di nascosto Si sono messi lì Con uno scuro Figuro Di nome Fiorenzo Pilla E una bravissima fanciulla Di nome Rossella Dolce Dico bene Mi dimentico Qualcuno Corretto Corretto E hanno pensato bene Di scrivere Un libro Su Le novità Riguardanti I Large Language Models Un po' Alla maniera Digitaliana E Capitanati Dal buon Pilla Hanno scritto Hanno prodotto Questo Uno nessuno Chat GPT Che è uscito Una settimana Due fa Che è uscito In digitale Un mesetto Oramai fa E oramai Dovrebbe anche Essere disponibile Fisico Ma solo Nelle migliori librerie Non quelle medie Non quelle scarse Solo le migliori Andate anche dal vostro Libraio scarso E ditegli di elevarsi Tenendo qualche copia Di uno nessuno Chat GPT Di Le edizioni Quindi non Nei peggiori bar Di Caracas Esatto Ma magari una copia La trovate anche lì E ci finisce Per colpa I nostri produttori esecutivi Magari che se la portano Nei peggiori bar Quando ce lo chiede la Coca Cola Facciamo così E dice Giulio Noi mica siamo la Coca Cola Cioè è una roba Vabbè Allora cosa abbiamo detto Di più Di più Non bandiamo nessun abbonamento Nessun concorso Nessuna roba Prendiamo i produttori esecutivi Prendiamo i grandi produttori E li regaliamo a loro Per i grandi produttori Questa puntata E poi Oggi ho pensato Ma siccome è un po' di tempo Che stiamo spingendo Su questa cosa Dei messaggi No? Lo dicevamo con Francesco No? E' bello quando i produttori esecutivi Ci mandano dei messaggi Perché arricchisce il segmento A me c'è un sacco Eh sì Diventano meno monotone Si chiacchiera di più Allora Oltre ai produttori esecutivi Abbiamo detto Vabbè peschiamo anche Il produttore L'altro produttore Che ci ha scritto oggi Che non è un grande produttore Come gli altri Ma che anche lui Ci ha mandato un messaggio Che è Daniele E poi siccome ce n'è ancora un po' Andiamo a beccare I produttori esecutivi Della puntata scorsa Che ci hanno mandato un messaggio Per cui a quelli Di cui abbiamo parlato prima Aggiungiamo Raffaele Di Palma Salvatore Coppola E Leonardo Callegaro Che nella puntata 683 Ci hanno mandato Una Una Donazione Un aiuto Un busto Un quello che volete Con Allegato Un messaggio Ce n'era anche un quarto Ma era Fiorenzo Pilla Mi sembrava Mi sembrava un po' brutto Ma Mandargli il libro Che ha scritto lui In omaggio Mi sembrava un po' Così Per cui Volevamo anche chiedere Di firmarselo E dedicarselo Così Si poteva anche Perché no Va bene Per cui Allora Una cosa Daniele Bastianelli Vincenzo Napolitano Marcello Marigliano Fabrizio Mele Manuele Paolo Lorenzo Giuseppe M Che non ho capito Se è un povero digitaliano Con quattro nomi O sono quattro poveri digitaliani Con un nome solo Esattamente Facci sapere che siamo curiosissimi Gabriele Tubertini Raffaele Di Palma Salvatore Coppola Leonardo Callegaro Mettetevi in contatto Con Michele Dove vi facciamo scrivere Su Slack Su Slack Venite su Slack Così se non ci siete È l'occasione buona Per venire sul nostro Slack Venite su Slack Cercate Michele In qualsiasi chat In quella diretta Qualche volete Scrivete At Michele DM Che su Slack Se non ricordo male Si chiama così E ditegli che lui si occupa Di farvi mandare Direttamente dalle edizioni Il libro E poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ne avanza uno Lo regaliamo La prossima volta Lo regaliamo la prossima volta A chi ci manda Il messaggio più simpatico Nel segmento I produttori esecutivi Così Ah cacchio Visto che c'è il bonus Eccetera Il libro di Fiorenzo Pilla Lo beccherà uno di voi La settimana prossima Scriveteci Se qualcuno si dimentica Di scrivere eccetera Vi diamo tempo Tutto ad agosto Quello che non va ad agosto Lo ripeschiamo a settembre E lo regaliamo A qualcun altro A settembre Per cui non dimenticatevi Non dire Eh non ci ho pensato Cacchio Mi sono dimenticato eccetera Scrivete a Michele Che vi arriva Uno nessuno Chat GPT E se non siete Tra i fortunati Ragazzi È un libro È un vero libro Digi Italiano Cos'è? 10 euro 15 euro Cosa costa Michele libro? 14 euro e 90 14 euro e 90 Sono meno in versione Kindle In cartaceo Ok Edizione digitale La versione digitale 6 euro e 99 Eh ragazzi È un imperdibile È un imperdibile È uno nessuno Chat GPT E magari ne arriveranno Altri di libri In futuro Chi lo sa O magari ci sarà Occasione di fare Qualche altro Mi piace Mi piace dare Qualche cosa indietro Ai nostri Ai nostri Produttori esecutivi Time Talent And Treasure Perché Il treasure Può fluire In entrambi I sensi E il time Il talent Anche È uno scambio Di valori Che può andare In entrambi i sensi Per tutte e tre Le declinazioni Non so se mi spiego Ed è diventa Arricchisce tutti Anche in senso Come dire Morale Culturale E tutto È una bella cosa Che unisce Tutta la nostra community È come l'end to end To end di prima End to end To end To end to end Esattamente Una mucchiata Di cripto Una mucchiata criptografica Esattamente Developers 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 Bellissima Francesco Tu sei il più Developers di tutti Qui in mezzo Questo articolo Che ci hai messo Ma soprattutto io Ho ancora un Palm Pilot Ce l'hai ancora Io l'ho Io ho due Funzionanti Che modello? Ho un Palm 3 E il 3 che ho avuto Sì E un 3 E un 3 Che non era più Il 3 Era quello con la tastellina E il telefono Quindi erano già Poi gestire un cinema IMAX Posso gestire un cinema IMAX Perché esattamente Scopriamo che i cinema IMAX Sono gestiti In particolare Quello che è il cambio Delle bobine Perché i film Realmente stanno Su una sola bobina Il fatto di Far partire Il secondo progettore Nel momento giusto Lo gestisce Questo oggetto Meraviglioso Pre-iPhone Che sarà appunto Il palmare per eccellenza Che è il Palm Pilot Non solo La notizia è ancora più bella No esatto Il problema è che Palm Pilot Ormai non se ne trovano molti Visto che la Palm Dopo l'uscita dell'iPhone Praticamente il giorno dopo È andata abbastanza Gamba all'aria Quindi non Difficile trovare i pezzi di ricambio Se non nel mio cassetto E quindi sappiate Cinema IMAX Se ne avete bisogno Che si sono inventati Che hanno emulato I Palm Quindi adesso Dei Palm emulati Perché evidentemente Il software per l'IMAX Gira solo lì Permettono di cambiare la bobina Esatto C'hanno un tablet Appeso A fianco Al Cine Riproduttore Al proiettore E sul tablet Gira un emulatore Con dentro Il sistema Del Palm Pilot Con la sua cornice Il Chrome Che è la custodia Del Pilot E dentro Il software Per Costava Costava di meno Installare degli emulatori Che riscrivere da zero Sarà così complicato Questo software Francesco Beh quanti Tanto pensi Era molto più semplice così Un bel po' di problemi Di sincronizzazione Il Palm comunque Un oggetto che Era veramente molto stabile Evidentemente Si è dimostrato Da questo punto di vista Pronto a sincronizzare Sempre in maniera puntuale Però dentro Dentro al simulatore Un po' meno Dentro all'emulatore Perché a quel punto No Sì Non è più Un oggetto hardware Che è semplice Ma è all'interno Di un oggetto Molto più complicato Sai cos'è Franco Che come si fa A decidere Quando far partire Il secondo proiettore Lo sapeva solo un tizio Ok Che aveva programmato Nel vecchio C De Palm Sì Solo lui Che adesso Il codice sorgente È finito In una cantina Per cui nessuno sa Come si fa A far partire Il secondo Ok Quindi emuliamolo Teniamolo lì Costa meno A questo punto Prendere un tablet Per quei cinema Che hanno bisogno Per non riscrivere Comunque Apro e chiudo Una parentesi Il 5 maggio 2010 Data Più o meno Data dell'acquisizione Di Palm Da parte di HP La puntata 49 di Digitalia Palmo di luce Con Carlo Vecchio E Massimo De Santo Parlavano Dell'acquisizione E della morte Prematura Del Palm Tre produttori Esecutivi Comunque per chi Può vederci In diretta Eccolo Che bello Che piantino Al cuore Funziona anche perché Vi dirò questo C'ha le batterie Stilo Eh sì C'ha le stilo Certo Quindi non è un problema Trovare il caricatore Io ci infilo due pile Si accende Ed è una meraviglia Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Ancora Tutto l'alfabeto Graffiti Perché per scrivere Scrivevi La parte in basso Dello schermo Era Muta Vuota Non comparivano Caratteri Ma era sensibile Al tocco Del pennino Ma Non aveva Riconoscimento Del testo Dovevi scrivere In questo alfabeto Particolare Che È simile All'alfabeto Maiuscolo Stampatello Ma ha delle differenze Che permettono A rendere Molto diverso Ogni singolo carattere Da tutti gli altri Quindi rendere Più facile Per una CPU Così semplice Riconoscere Che CPU Aveva? Full L'uovo di Colombo No È difficile Riconoscere Il testo Digitato Dalle persone Insegniamogli Un alfabeto nuovo Eh sì E con questa Piccola trovata Spaccarono Il sedere Alla Apple Di allora Che vendeva Newton Che costava Infinitamente Di più Era Infinitamente Più complesso Prometteva Di riconoscere Qualsiasi Callegrafia Ma in realtà Non riconosceva Proprio una mazza E Palm Pilot Che era molto più piccolo Lo mettevi in tasca Eccetera Aveva una fiorentissima Community di sviluppatori Perché aveva Fin da subito Pubblicato Il Le librerie E il compilatore Che era Code Warrior Me lo ricordo bene Avevo scritto Un software Code Warrior Sicuramente Non so se fosse l'unico Ma Direi di sì E utilizzavo ai tempi Code Warrior E avevo scritto Qualche cosa Non mi ricordo Assolutamente cosa Per il Forse era per Avevo scritto Una roba Che Con cui collegavo Con un Adattatore seriale Costruito in casa E non mi ricordo Neanche dove avevo Beccato I Gli schemi E collegavo Il Palm Pilot A uno dei primi Computer Per la subacquea Sai quelli che Vai sott'acqua E ti dice Quanto tempo Devi stare Quando risali Quanto tempo Devi stare a 10 metri Quanto tempo Devi stare a 5 metri Quello che sostituisce Le tabelle Di decompressione Fondamentalmente oggi Li usano tutti Anzi se vi ricordate L'ultima presentazione Dell'Apple Watch Ultra Apple Watch Lo presentavano Anche come sostituto Dei computer Da scuba diving Proprio per quello Ecco Uno dei primi Che si chiamava Aladin Aveva questi Tasti di metallo Due dei tasti di metallo Erano cavi Ci infilavi Due specie di aghi E avevi due poli Che collegavi A una porta seriale E io li collegavo Al Palm Pilot Aveva poi scritto Un software Che permetteva Di scaricare Sul Palm Pilot Il log Di ogni singola Di ogni singola inversione Vabbè Insomma Siamo nell'archeologia E ovviamente C'è appunto Una subreddit L'ho trovata Ovviamente Ar slash Palm E c'è un sito Che si chiama PalmDB.net Di appassionati Che da qui Possibile scaricare Giochilli Applicazioni Che bella cosa Devo trovarmelo anch'io Devo trovarmelo anch'io Un vecchio Palm Io ne ho avuti un paio Il primo era 3C È possibile Era 3 Una lettera a fianco 3X Ah 3X 3X Ecco Perfetto Infatti mi sembrava Poi ebbe il 5 E un paio di Treo Uno con graffiti Uno con tassierino Microscopico Il Treo Non l'ho mai Non l'ho mai avuto Ho avuto due 2 Palm Pilot Bellissimi Bellissimi Azienda Piccola Californiana Della Silicon Valley Della prima ora Ben ricordi Bene Visto che siamo In ambito sviluppatori Un bello sgambetto Agli sviluppatori Da parte di Apple Almeno per ora Nella beta Di macOS Sonoma Sistema operativo Per il Mac Che uscirà Settembre Ottobre Giù di lì L'hai seguito un po' Francesco? Sì Allora Intanto è un bellissimo Post Che è stato scritto Dai ragazzi di Rogameba L'azienda che fa Audio iJack E tutta un'altra serie Di tool Software Veramente critici Per quello che è La registrazione audio Tipicamente Veramente famosi Fin dalle prime versioni Di macOS Che In realtà critica Certamente loro Stanno analizzando Analizzano Perché poi I loro software Vanno molto in profondità Nel sistema operativo Ogni beta Ma si sono concentrati Sul fatto che La nuova beta Notifichi Innanzitutto all'utente E non al programmatore E già questa è una stranezza Quelle che sono Le API deprecate Le API deprecate Sono funzioni Di sistema operativo Che Apple ha deciso Non serve più Le facciamo In un altro modo Si spera E quindi Il programmatore Deve aggiornare O non le facciamo più E quindi uno Si attacca Il fatto C'è la scelta Qui la critica È che compaiono Dei messaggi Di errore Con il classico Simbolo rosso E scritto Alert Questa Cache delete È una funzione Deprecata Contatta Allo sviluppatore Intelligent platform Core Deprecato Contatta Quindi Questa maniera Un po' Si mette pressione Mette pressione Perché Istiga L'utente A fare pressione Sullo sviluppatore Perché Utilizzi Non utilizzi più Delle funzioni Deprecate Le funzioni Deprecate In realtà Come funziona Di solito Ovviamente Sistemi operativi Evolgono Tu scrivi Un software Che funziona Su Pippo S 1.0 Quando Pippo Tira fuori Pippo S 2.0 3.0 4.0 Nei vari miglioramenti A un certo punto Mette delle funzioni Nuove E Dice Segnala Come deprecate Quelle vecchie Che cosa vuol dire Vuol dire Che suggerisce Agli sviluppatori Di Pian piano Trovare un modo Per non utilizzare Più Le librerie vecchie Le chiamate Di funzioni Vecchie E utilizzare Quelle nuove Per Fare In qualche modo Per sfruttare Le caratteristiche Più innovative Del sistema operativo E Le funzioni deprecate Di solito Rimangono deprecate Per 3 4 5 6 Release Quindi in questo caso 3 4 5 6 Anni Alcune anche Per 10 anni Se sono molto O alcune anche un anno a volte Perché possono anche essere Tempi più ristretti Può capitare Diciamo che nell'utilizzo Nella cosa di Apple Non è mai capitato Di vedere delle funzioni Deprecate dopo un anno Però resta una cosa Tra Apple e lo sviluppatore Lo sviluppatore Vede questo messaggio Non di errore Ma di warning Di attenzione Quando compila Per il nuovo sistema operativo Il suo software E il messaggio dice Occhio che stai utilizzando Le librerie deprecate Nei prossimi anni A un certo punto La tua app Smetterà Di Prima di poter essere Compilata Con le nuove versioni Dell'SDK E a un certo punto Anche le versioni Compilate precedentemente Potrebbero smettere Di funzionare Sulle future versioni Di E quindi Normalmente È Come dire Una moral suasion Un invito Allo sviluppatore Ad ammodernare L'app In modo da Seguire L'ammodernamento Del sistema operativo Una data di scadenza In un certo senso Sì Non c'è la data Non c'è la data Però intanto Generalmente Gli sviluppatori Sono degli esseri Terribilmente Afflitti Da sindrome ansiose E da comportamenti Ossessivo compulsivi Per cui Quando compilano Il loro software Avere solo anche Due warning Gli dà fastidio E vogliono avere Sempre Il risultato Della compilazione Pulito Con zero errori E zero warning Per cui già quello Fa soffrire Allo sviluppatore Lo porta Molto fortemente Verso la dismissione Dell'utilizzo Delle API Deprecate Ma Mettere L'utente finale Dentro a questo Rapporto Infilarlo No Rompendo Ogni volta Che lancia L'app Con un pannello Che dice Oh Il tuo sviluppatore Non ha ancora Aggiornato l'app Per le nuove cose Rompiti le scatole È veramente Una roba Bruttissima Allora C'è da dire Che questa cosa Non è nuova In Apple Nel senso che È nuova Con questa violenza visiva Nel senso che adesso Proprio il simbolo Il cartello rosso Che ti compare È qualcosa Che dà veramente Panico Agli sviluppatori Però già Su macOS E anche su IOS Capitavano Dei messaggi Tipo Questa applicazione Potrebbe non funzionare Più in futuro O non funziona Più Contatta Me lo ricordo Sicuramente Su estensioni Sistema Nella quale Ti dice Questa estensione Potrebbe non funzionare Più E su certe app C'è un però C'è un però Ecco Lì Non era Nel secondo caso Era nel passaggio Da 32 A 64 Bit E quindi Non è una questione Di aggiornare O non aggiornare Eccetera E che semplicemente Nel momento in cui Viene abbandonato Il supporto ai 32 Bit Le applicazioni vecchie Smettono di funzionare E quindi Lì c'è un motivo Molto hard Molto Molto Cosa Nel caso Dei driver Che lo fa ancora Adesso Mac Se utilizzi Driver audio Ad esempio Quelli che lavorano A livello del kernel Quelli nuovi Apple vuole Vuole che si sviluppino Dei driver Per ad esempio Le schede audio Che lavorano Non più a livello del kernel Ma a livello utente Se hai ancora Dei driver Vecchio modello Quando fai il boot Compare questo schermo Però occhio Interrompi Intanto Solo una volta Succede Quando fai il boot Della macchina E due Interrompi il flow Di utilizzo Di un prodotto Di Apple Che è il sistema operativo Per cui l'utente Vede degradato Tra virgolette L'utilizzo del sistema Quando fa il boot Prima di poterlo utilizzare Deve fare click Su una spunta Ma prima di utilizzare Il sistema Che è di Apple Invece La boiata Di Sonoma E che tutte le volte Che io faccio partire L'app di Facconi E solo l'app di Facconi Prima di poterla usare Devo Togliere Devo schiacciare Ok Su questo alert Che dice Facconi è un coglione Perché non ha ancora Aggiornato l'app E è un po' diverso Tant'è che c'è stata L'elevata di scudi Dai ragazzi Ma il messaggio Fra l'altro Non dovrebbe Cioè è sbagliato Non è chiedi allo sviluppatore Di correggere Ma è non aggiornare Perché se no Non ti funziona più Piuttosto Se tu hai un'applicazione Che ti serve Per il tuo lavoro Non stai ad aggiornare A un nuovo sistema Finché non sei sicuro No Diciamo Anche fra di noi Ogni volta che c'è Un aggiornamento di sistema Franco sa rabbia Che noi tutti Aggiorniamo subito Perché dice No se quello Non va E se quell'altro Non va Apposta perché uno Dovrebbe attendere Che i produttori Delle sue app Di lavoro Ok Quelle professionali Dichiari non compatibilità Il fatto di Insistere Sull'obbligare In un certo senso Gli utenti A chiedere Il sviluppatore Un aggiornamento Quando magari Può non essere Nel loro interessi È Secondo me Un capovolgere Il problema Dovrebbero essere Gli utenti Che decidono Di non aggiornare Il suo operativo Per mantenere compatibilità Con un prodotto Acquistato Su cui basano comunque Un'attività Hobbistica Professionale Lo sai che Lo sapete che Rogamiba Esiste da Trent'anni Una roba del genere Ma esiste ancora Grazie al podcasting E quasi per sbaglio Quasi per un incidente L'ha raccontato È stato raccontato Da più Da più persone E poi da Adam Curry In persona Quando Steve Jobs Vole mettere Voleva mettere Il podcasting Dentro iTunes Che è stata Un po' La mossa Che ha causato La prima Esplosione Del podcasting Chiamò Adam Curry Che era un po' Il leader Del movimento Del podcasting Indipendente Eccetera E quello Che aveva Diretto La creazione Della prima Della prima Directory Di podcast E Steve Jobs Lo invitò A Cupertino E Adam Curry Andò a Cupertino Passò due ore Con Steve Jobs Che tra le varie cose Trattare Diceva Vabbè Io vi do La directory Gratis Se la mettete Dentro iTunes Eccetera Eccetera Lo store Dei podcast Di iTunes È nato Da quella directory Lì L'abbiamo raccontato L'abbiamo già raccontato Tante volte Eccetera E poi gli ha chiesto Ma come fai Per registrare Il podcast Usi il Mac E lui gli disse Sì guarda Io uso solo il Mac Per registrare E metto musica Di musicisti Che mi danno I diritti Perché li conosco Direttamente E per registrarla Dentro al software Di registrazione Utilizzo questo software Per Mac Che si chiama Audio Eject Pro Di Rogamiba Che Audio Eject Pro Esiste ancora oggi Si chiama Non si chiama più Audio Eject E basta Si chiama Audio Eject E basta Perfetto E serve proprio A intercettare L'audio di un'applicazione Tra le altre cose E a buttarlo Verso un'altra applicazione In quel periodo Senza A totale insaputa Da parte dello sviluppatore Rogamiba E fondamentale All'insaputa Di tutti Come succede spesso Per le cose Che riguardano Apple Rogamiba Era sotto accusa Da parte Di RIA Che è un po' La CIA americana Perché La RIA Detta per noi Italianopoli Perché era Perché era L'unico modo Con cui Si poteva Fondamentalmente Copiare Le musiche Che allora Jobs vendeva Su iTunes Allora vendeva La musica Su iTunes A pezzi singoli Ma ancora Non in MMP3 Ancora Coperta dal DRM Che aveva dovuto Accettare Steve Jobs Per avere il permesso Di vendere La musica E con Audio Eject Pro Si poteva mettere In riproduzione Su iTunes La musica E farla fluire Verso un'altra app Che registrava O registrarle Direttamente Dentro Audio Eject E quindi Creare un file MP3 E quindi Avevano chiesto A Steve Jobs Di escludere Questa applicazione Rendendo Chiudendo di nuovo Dei punti Delle API Delle librerie In modo da renderla Inefficace E quando Steve Jobs Che voleva far partire Il podcasting E utilizzarlo come leva Per rendere ancora più grande E seppe che Audio Eject Pro Veniva utilizzato Dai podcaster indipendenti Eccetera Fece il gesto Dell'ombrello E RIA E Audio Eject Continuò a funzionare E Rogamiba Continuò a venderlo E a prosperare Lo fa fino ad oggi Io oggi Sto utilizzando Audio Eject Per rediriggere L'audio Verso lo stream Della web radio E per registrare Le vostre voci Come backup Probabilmente Anche voi Lo utilizzate Per qualche cosa Nella vostra produttività Non so se per podcasting O per altre cose E beh insomma Questa è una È una storia Di colore Che fa parte Che fa parte Della storia Della storia Del podcasting Sam Altman Sam Altman È andato a vedere Openheimer Ma dice Michele Forse ne ha visto uno diverso Rispetto a quello che c'è Nei Non lo abbiamo ancora visto Quindi Esatto Io ho prenotato Ovvero A parte sono andato a vedere Barbie Verdi E Openheimer Mi tocca a settembre Però in sala energia A mezzo Quindi per i Esatto In zona Milano La risposta è quella Di Franz Però in realtà Sam Altman Dopo aver visto Openheimer Si è ricordato Di Social Network Adesso Ve lo ricordate Social Network Il film su Zuckerberg Di David Fitch Abbassata Parentemente sarebbero Molto simili Apparentemente In realtà Sarebbero Non simili Perché lui Si aspettava Da Openheimer Un film che potesse Ispirare Una generazione Di bambini A diventare fisici Nucleari Esattamente Nucleari Esatto Esattamente Come The Social Network Avrebbe fatto Per i Fondatori Di start up Adesso Dico io E Barbie Allora Che cosa li ispira A diventare Barbie si spera A essere persone migliori E il Il punto E che è esattamente Il contrario Perché Openheimer Openheimer In realtà Adesso Non l'ho visto Ma dubito Che il punto Sia Ispirare le persone A diventare Dei fisici Quanto Immagino Si concentri Sulle Sulle Paturnie Di Openheimer Sul dramma Umano Sul dramma Sul dramma Umano Esatto Significato Che è meglio Di paturnie Esatto Però The social network È stato fatto Da David Fincher Non per ispirare Ad essere Come Zuckerberg Era il dramma Umano Di Zuckerberg Che doveva Fare un sacco Di soldi Passando sopra Tutte le sue amicizie Le persone È un dramma Umano È un dramma Umano Esatto È ancora Il suo cuore È spezzato Ancora anni e anni Dopo Infatti Dopo tanti anni Dice Franco Scusa Scusa Stavo cercando Stavo cercando Non c'avevo Il ditino Pro Scusate Grazie E va bene Quindi insomma Anche se Maltman Ha un Qualche tipo Di percezione Della realtà Non diciamo Non proprio incollato Considerato Che è l'amministratore Delegato Dell'azienda Che sta creando La tecnologia Che teoricamente Dovrebbe guidare Il genere umano Nei prossimi 50 anni Siamo messi Molto bene Ovviamente Non il migliore Dei segnali Non il migliore Assolutamente no Era come la storia Dell'empatia Quando è che Walter Isaacson Fa un'altra biografia Eh sì Ma fondamentalmente Fondamentalmente Come dicevano Che chiunque Vinca delle elezioni Gli dovrebbe essere Assolutamente Categoricamente Vietata A qualsiasi carica Politica E di cosa È la stessa cosa Cioè Chiunque Arrivi in cima A un'azienda Che lavora Nel mondo Della tecnologia È Per definizione Privo di empatia E Ci può stare Che è che Qualcuno ha tweetato In questi giorni Che è andato a vedere Ha xato Franco Stami sul pezzo Chiedo perdono Ha xato Che è andato a vedere In successione Oppenheimer e Barbie Con la figlia Bambina E Il commento Della bambina Dopo aver visto I due film Che ha distillato Fondamentalmente L'essenza di Barbie Pienheimer Fondamentalmente Ha detto Vabbè papà Io la cosa Che ho capitato Alla fine Da questi due film È che alla fine Gli uomini Sono sempre loro A rovinare tutto E nella La bimba Sì sì Ma io quando gioco Che effettivamente Ma tutti questi scemi Sono qui pagano il biglietto E manco giocano Guardano gli altri Che giocano Ed è un po' così No? Eh mettiti in coda Ci sono altre 80.000 persone Davanti a te Ma tanto no Nessuno giocherà Così Però Da cambiare idee Da cui si spiegano Le ultime stagioni Della Juventus Eh certamente Deve essere andata Esattamente così Esattamente così E anche Non solo nel giocare Ma anche nei posti dirigenziali Credo che sia andata Esattamente Ma se noi L'uomo della strada Così Esattamente Va bene Eh Cosa vi piace Delle notizie Del capi Dei capitoli vari Su intelligenza artificiale Large language Models E robe del genere Delle Delle regole Dettate dalla Casa Bianca E che le E che le Regole 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 Esatto Una birretta Tra amici Delle simpatiche Pacche sulle spalle Stiamo parlando In realtà Di un Di un decalogo Perché credo Siano effettivamente Dieci Se non ricordo Non si ricordo male Ma potrei sbagliare Come i produttori Siamo otto Anzi Come i migliori Decaloghi Che hanno tutti Otto regole È un ottalogo Chiamiamolo Un ottalogo Di regole Che le aziende Le principali aziende Come Amazon Google Meta OpenAI Microsoft E Antropic Che non so chi sia Inflection Che non so chi sia Non ho avuto il tempo Per quello che devi preoccuparti Non c'è Palantir Però stranamente Non c'è Palantir Insomma Sono delle regole Erano troppo restrittive Ma chi sono io Per rispettare delle regole Delle regole Che poi in realtà Non hanno nessun valore legale Non hanno nessuna conseguenza In quanto Se non rispettate Soprattutto Sono particolarmente vaghe Ad esempio La prima Queste aziende Si impegnano Non ho detto Committare Grandissimo Si impegnano A dei test Di sicurezza Interni ed esterni Della loro intelligenza artificiale Prima del loro rilascio Ok Bene Fate del beta testing Che cos'è questa cosa? Allora io uso Con successo Da qualche settimana Un plug-in Di OpenAI Di Chargbt Che mi fa il riassunto Degli articoli Ed è uscito vuoto Questo No 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 Meglio ancora In qualcuno Adirittura aggiunge Primamente sempre Riassunto Poi dei fatti Che è utile Perché almeno c'è i punti principali Qualche volta inventa Ma li becco tutte E in fondo Rarissimamente Mette un commento E qua ha messo Salvaguardie volontarie Adottate dalle aziende leader Dell'intelligenza artificiale Negli USA Per gestire i rischi Associati a questa tecnologia Emergente Hanno senso? Cioè Se ne è chiesto lui Volontarie Vabbè Commento di Chargbt Meravigioso Ottimo E in realtà Le altre sette Più o meno Sono su questa falsa riga Mi permetti di citare Però Io ho sottolineato Quattro righe Su questo primo commitment Che dice Internal Test E dice Ci sono alcuni tipi Di rischi Per intelligenza artificiale Ad esempio I rischi Che modelli Di intelligenza artificiale Potrebbero essere utilizzati Per sviluppare Delle armi biologiche Che il governo E i militari Sono probabilmente Meglio In grado Di valutare E allora Mi immaginavo Questi militari Che valutano Se le intelligenze artificiali Possono essere usate Per creare armi biologiche E me li immaginavo Così preoccupati Dici Ma guarda Questa intelligenza artificiale Si fregano le mani Che potrebbero anche Essere utilizzate Che potrebbero anche Essere utilizzate I militari Sono proprio Le persone giuste Per farli valutare Queste cose Vieni Vieni Con la tua intelligenza artificiale Che la usiamo noi Vieni 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 Vabbè Mi ha fatto un po' ridere Ecco Quest'idea Questo credo Che sia un po' Forse lo scenario migliore Per queste Per queste aziende Almeno negli Stati Uniti Poi In Unione Europea Ovviamente È un po' diversa La situazione Però Insomma Loro sono andati Alla Casa Bianca Ne abbiamo parlato Nei mesi scorsi Ha fatto quattro chiacchiere Con il Presidente Degli Stati Uniti È uscito fuori Queste regolette Della buonanotte Che dicono tutto Anzi no Non dicono neanche tutto Non dicono proprio Non dicono proprio niente E senza Alcun tipo di Check and balance Senza organismi Di controllo Dicono in realtà Una versione Alleggerita Di quello che sono Indicazioni europee Indicazioni europee Sono laboratori di test Quindi certificazioni di là Chiediamo a qualcuno Di verificare se è buono Poi come lo faremo Vedremo È un modo secondo me Per tentare di dire Ma se stiamo facendo Come in Europa Però Tenendosi a casa loro Comunque le regole Ma le regole europee Però dicono anche Cosa si può fare E cosa non si può fare Sono delle regole Sono delle regole Che portano a delle leggi Che poi hanno delle pene Qui che cosa succede Se OpenAI Non rispetta Il commitment numero 3 Assolutamente niente Abbiamo detto giurin giuretta Ecco esatto Abbiamo brindato Con la birra Nella stale ovale Esatto Giurin giuretta E poi per carità E l'atteggiamento americano Di lasciamo fare Alle aziende E vediamo poi Cosa succede Nel frattempo Qualche miliardo di pill Qualche punto di pill Lo portano a casa Poi E poi il resto non conta E certo Poi il resto non conta Qualcuno inizia a notare Che OpenAI Stia diventando Meno intelligente Sì Diciamo che Qualcuno ha fatto dei test Ha cercato di misurare L'intelligenza Fra l'altro Per loro l'intelligenza È vedere se trova I numeri primi È uno dei test È uno dei test L'idea è che Rispetto agli inizi Anzi non è neanche uno dei test È uno degli esempi Utilizzati dall'articolo Per mostrare Che in qualche modo OpenAI È peggiorato Però non dice Che fa parte Di quella ricerca Perché è una ricerca Almeno uno di questi temi Arriva fuori Da una ricerca Da Stanford Dall'università di Stanford Per cui immagino Che se hanno tirato fuori Una pubblicazione scientifica Abbiano fatto qualcosa Di un po' più accurato Di dire Non ci dice Più i numeri primi Io prendo di Reddit Che l'ha No no Chiaramente Il Ecco Il Ammetto che io Non ho notato questa cosa Ma non è solo Un grandissimo utilizzatore A parte per farmi Autocommentare Gli articoli Sull'interesse artificiale Però posso immaginare Che avendone fatto Tutti noi Un utilizzo In molti Un utilizzo Cercando di tirarlo Al limite Quindi Rincoglionendolo Un po' Su sistema Che comunque Impara Dalle conversazioni Conversazioni usate Sono fatte per fare training Sei sicuro? Beh in teoria La beta Utilizzata Serve per poi Migliorare Quello che è Il Meccanismo In teoria Anche lì Quando gli dici Due più due fa quattro No fa cinque Guarda che fa cinque Dopo un po' Lui ti dice Ah ok grazie Adesso me lo ricorderò Quindi a furia di Boh me lo segno Esatto Cioè Magari se l'ha segnato Veramente Ecco E quindi ora Inizia a gestire In maniera un po' Più Avevamo anche Letto Articoli Le settimane Scorse Che parlavano Del problema Dell'avvelenamento Della Dalla repository Di testo Per eccellenza Cioè internet E che oramai Da qualche mese Però i più grossi Produttori Di testo Su internet Sono gli stessi Modelli LLM E quindi c'è una ricorsione Che non può portare Che ha un appiattimento Verso il basso E un peggioramento Delle performance Perché oggi I nuovi modelli LLM Vengono addestrati Viene fatto il training Su L'output Di precedenti Modelli LLM E quindi In qualche modo I difetti Si accumulano Si ingigantiscono E le performance Paradossalmente Possono decrescere Invece che Aumentare Era qualcosa Che era stato Postulato Qualche mese fa Che era stato Iniziato a descrivere Qualche Settimana fa E che questi Ultimi articoli Sembrano in qualche modo Dimostrare O quantomeno Al me sembra Di vedere un collegamento Tra le due cose Poi magari hanno Scazzato i programmatori Di OpenAI E le ultime Le ultime release Hanno sbagliato qualcosa Però potrebbe essere Anche un segnale Di quel meccanismo Lì Vabbè Non finisco Se inizia Il OpenAI E Bard Dicono un mucchio Di cacchiate Si stanno investendo Dei miliardi Nell'idea Che saranno Il futuro Di tantissime Industrie Di tantissimi ambienti Di tantissimi Tipi di lavoro Con Però La Premessa La supposizione Che sia valido Quello che è stato valido Per tutte le tecnologie Moderne In generale Anche non moderne Cioè che Vanno nel tempo Migliorando Sì ok Oggi OpenAI Se ti deve Scrivere Un articolo Ti scrive Tre cose giuste Quattro cacchiate E quindi Comunque serve Qualcuno Che lo Rilegga Che lo Correga Eccetera Quindi alla fine Non serve A un cacchio Ma Se continuerà A migliorare Considerato che Questo è il punto Di partenza Già notevole Un computer Che da solo Gli dici Scrivimi un articolo Sugli U2 E lui me lo scrive E beh Se andrà migliorando Come sono migliorate Le automobili Come sono migliorati I computer Come sono migliorati Gli editor di testo Come sono migliorati I fogli di calcolo E beh ragazzi Qui se investiamo Un miliardo Guadagneremo Cento miliardi Potrebbe essere La prima tecnologia Per cui non si rivela Vero questa cosa O che per certi Aspetti Non si rivela Vero TV3D Eh vabbè È quello che bisogna dirlo Sempre La seconda Tecnologia Beh o C'è un altro Pretendente Che è il metaverso Che insomma È l'allaggio Se la gioca È lì nel purgatorio Subito prima Della TV3D Centoquarantesima Tecnologia Che non ce la fa No Di quelle comunque Sì Sparate così grosse Ma può essere Può essere quello Probabilmente può essere Che abbiamo iniziato A imparare E io vorrei vederla Anche forse In un modo positivo A riconoscere meglio Le castronerie Eh ok E quindi nel cercare Anche di portarlo Sempre più ai limiti Magari quindi Lo usiamo Il sistema di generazione In maniera un po' Più consapevole Soprattutto chi fa ricerca Chi fa analisi Di queste cose E quindi Iniziare a trovare Risposte non adeguate A domande magari Molto più puntuali Che non nel semplice Tentativo Di giocarci un po' Eh Con l'occhio critico Magari fa veramente Trovare Eh Più facilmente Gli errori L'allucinazione Di quei problemi Tipici di questi Di questi oggetti software Chi sembra crederci molto In questi oggetti software Sono dalle parti di Hollywood Tant'è che C'è il terrore Mi sembra di capire Da questo articolo Che ci ha messo Michele Tra gli showrunner Tra le Gli scrittori Gli sceneggiatori Di Hollywood Ah in realtà Il terrore Corre Prima di tutto Ai livelli più bassi E uno dei motivi Soprattutto Dello show Però Credo anche Degli autori Ma poi anche Degli attori Che si sono uniti Successivamente È anche quello Dell'utilizzo Delle loro Dei loro materiali E delle loro immagini Nel caso Degli attori Per la creazione Di entità Di entità artificiali Quindi tu sei un attore Magari In background In un film Nel momento in cui Ti sottopongono il contratto Tu firmi anche Una Insomma L'autorizzazione All'utilizzo Della tua immagine In quanto Per Intelligenze artificiali Non solo Non solo Perché In questi In questi ultimi mesi Chi fa il training Di questi strumenti Dice che di fatto Quegli attori lì L'hanno già data Perché quando hanno firmato Do il consenso Alla Paramount A utilizzare la mia immagine A ridistribuirla A utilizzarla Worldwide Senza limiti Eccetera 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 Ai tempi Quando hanno firmato Questi modelli Non esistevano ancora Ma oggi esistono E OpenAI Google Eccetera Dicono E beh Se avete dato il diritto Di utilizzare Eccetera Questo comprende anche Le tecnologie Che allora non esistevano Per cui Noi la utilizziamo E voi non avete Nessuna voce in capitolo Esatto Mamma mia Terribile Esatto E infatti Sono in sciopero E sta creando Qualche problemino A Hollywood Cosa è uscito? L'articolo di Forbes In cui si descrive Una tecnologia Un modello Anzi Che si chiama Showrunner AI Che mette insieme Un po' Tutte queste cose Ed è stato allenato Sulle Ora Ma adesso Non ricordo il numero esatto Ma più di 25 stagioni 24-25 stagioni Di South Park Che ovviamente È stato scelto Per lo stile Molto semplice Della grafica Della grafica Dell'animazione Questi episodi Sono stati pubblicati Poi su Vimeo Ve li potete andare Andare a cercare E a vedere Se proprio Non avete niente da fare Però in realtà Non è vero È molto interessante Per vedere A che punto è E Tu sei il nostro South Parkologo E queste puntate qui Hanno senso E No Le puntate di per sé Come dire Non è una È una puntata Che È come ChatGPT E se potrebbe Sembrare una persona Che ti sta Che ti sta parlando Però diciamo Non ha né capo né coda E non Esatto E non ha l'anima Non ha il wit Non ha la sagaccia Di South Park Anche se L'idea è proprio quella Di È una puntata In cui Parla di È una meta puntata Su se stessa Sulla generazione Di un episodio Che viene fatto Tramite un'intelligenza artificiale Quindi c'è proprio Il tema All'interno Del Del prodotto generato Sì Però il prodotto generato Dall'uomo South Park Se ci pensi Certo Ha dietro Una profondità Cioè la puoi leggere A più spessori E c'ha un'ironia Che è spesso No C'ha un primo livello Di ironia Poi se guardi sotto C'è un secondo Livello di ironia Cioè È una cosa stratificata Queste robe qui Sono piatte Non c'è niente sotto Non 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 Nel 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 Per capirlo No Sono Oggi Sono esercizi Un'ascrittura A quattro mani Una serie tv Una serie tv infinita E mette un nome Io proprio di GPT4 Che è quella di aiuto Ai ciechi Che non sono quelli della Repubblica cieca Ma le persone non vedenti Che pare che oggi ce l'abbiano già in test E pare che effettivamente gli aiuti molto nella vita Si fa l'esempio delle boccettine di shampoo Adesso non mi sembra di aver capito il dispositivo Però credo in quanto Allora esiste un'applicazione che si chiama Be My Eyes Che è un servizio per il quale tu puoi fare gli occhi Tu essere umano Puoi fare gli occhi di una persona non vedente Anzi di un cieco come si dovrebbe dire correttamente Per cui lui filma col telefonino Tu in videochiamata in un certo senso E dici ok questo è uno shampoo Questo è quella una striscia pedonale Eccetera L'idea era quella di aggiungere ChagPT al riconoscimento Ed è stato fatto come test proprio in questa applicazione Per verificare l'utilizzo In quel caso sarebbe un Be My Eyes disponibile 24 ore su 24 E non a disponibilità chiaramente di un utente dell'applicazione Appunto non sappiamo esattamente cosa sia successo Perché non c'è dato a saperlo Sappiamo che OpenAI non si ha paura Quindi evidentemente deve aver avuto dei commenti Faconi faccia di merda Questo è come Google foto di un paio di mesi fa Probabilmente ha inquadrato la faccia di Sam Altman E ha detto ah questo qui deve essere uno senza empatia Uomo senza empatia Ma non ne capisce niente Uomo senza empatia Lui si è offeso e ha detto no Non lo rilasciamo al pubblico Va bene tiriamo un po' lungo Ma questo è interessante Perché i non diabetici hanno iniziato di colpo a indossare continuamente i monitor Glucosimetri Esattamente Di glucosimetri Cioè i dispositivi per monitorare la presenza di glucosio nel sangue in maniera continuativa Quindi non più quelli col punturino nel dito Ma come funzionano fra l'altro frango questi? Sono sempre a pescaggio Sì credo che abbia una puntina che vada almeno nel derma Credo di sì Non so esattamente Ne ho visti ma non ne ho mai aperti Li ho visti addosso ai pazienti Li ho visti col cerotto sotto chiusi E non ho mai approfondito Ma approfondirò Ok perché finora quelli standard avevano appunto la goccina di sangue che prendi E poi fai esaminare Sono comodissimi per chiaramente chi ha il diabete Perché permette di sapere il tuo livello di glucosio E quindi scegliere coscientemente quanta insulina iniettarti Stanno utilizzandola anche i non diabetici Il perché? Chi è che vuole spiegare perché questa scelta è apparentemente controcorrente? Perché è TikTok? Appare che ci siano degli account su TikTok che stanno diventando famosi virali Perché fanno degli esperimenti sul proprio sangue Quindi mangiano una barretta al cioccolato E vedono quanto sale il glucosio Magari poi invece mangiano un'insalata di cavolo E poi la barretta e vedono a quel punto di quanto sale il glucosio E fanno tanti like Perché? Poi se mi chiedi un ulteriore livello di perché non te lo so dire Penso che sia il sindrome da Fitbit o da Apple Watch Hai i cerchietti da chiudere, il numero di passi che hai fatto, il numero di scalini E il livello di glucosio che deve sempre stare esattamente lì in mezzo Né di più né di meno Che è una coglionata terrificante perché i livelli di glucosio devono stare entro certi parametri Nel diabetico che deve stare attento Nella persona sana in rene in realtà può avere dei picchi al rialzo O dei movimenti che in realtà nessuno collega a situazioni di malattia Ma abbiamo un device che si chiama pancreas che fa misurazione e gestione continua Se non mi sbaglio Esattamente ma soprattutto Ma è wifi il tuo pancreas? Bluetooth Ci sono poi i santoni della fitness eccetera che ti dicono Eh perché tu quando fai l'allenamento se tieni la glicemia trai questo valore, questo valore E poi lo fai salire a questo valore Allora il tuo allenamento è più E allora tutti lì a comprarsi dispositivi, a fare monitoraggio, a fare delle belle barre, dei bei grafici Non bisogna assolutamente fare il grafico a torta Perché con il grafico a torta la glicemia è un casino puoi controllare Perfetto, non l'ha inventata un diabetico il grafico a torta certamente Oppure l'ha chiamata proprio così perché aveva l'allucinazione talmente tanto Che non riuscì a mangiare una torta quando ha visto quel grafico Che poi potrebbe essere tranquillamente chiamato anche grafico a pizza Perché se uno pensa come viene mangiata la pizza Da qualche parte qualcuno aveva scritto che La pizza è esattamente un grafico a torta Della quantità di pizza che è già stata mangiata È una cosa bellissima Guarda ho visto gente mangiare pizze tipo dal centro Partendo dal centro Lì sono assolutamente Poi ci sono le patologie Sono dei criminali Esatto L'ananas Quelle robe lì Certamente Lì ci si sa Sono collegati a una mancanza di empatia e delle cose Però non ci possiamo Sennò finiamo di nuovo nel nazismo e la Hitler e robe del genere Eccetera Però devo dire che queste mode possono anche far bene Perché più gente che utilizza questi sensori Più denaro che gira Più investimenti Miglioramento dei dispositivi A tutto vantaggi invece dei diabetici Che ne hanno veramente bisogno Per cui Perché no? Se pensate che possiate beneficiarne Non lo so se è vero Ma certamente ne beneficeranno Da una parte le aziende che li commercializzano Ma l'altra indirettamente anche i diabetici Che ne hanno bisogno per la loro vita Perché Poi in realtà può darsi Di allenamenti ad alto livello Eccetera Non sono assolutamente competente Per cui è anche possibile che A livello iper professionistico Gli allenatori di squadre olimpiche Di atletica Di squadre di calcio O robe del genere Da questi dati riescano a estrapolare Dei modi migliori Per far rendere un atleta Per farlo allenare meglio Io questo Non lo so Ed è assolutamente Possibile e plausibile Certo Il runner che fa fare la corsetta A Central Park Che si misura il glucosio Fa un po' ridere Però Va bene anche così Credo che Da geek Non possiamo neanche permetterci Troppo di criticare Ognuno di noi Ha fatto delle cose Ben peggiori Ben più costose Ben più inutili Nella sua vita Mi ricordo qualcuno Che aveva domotizzato Una piantagione domestica Di basilico E' l'unico motivo Per cui i miei peperoncini Fuori al balcone Continuano a prosperare Vedi Mi chiedo scusa Hai salvato una vita Al peperoncino Ci sta Ci sta Ma io per prima Ne ho fatte ben di peggio Di cui mi vergogno Tremendamente Un giorno magari faremo Le raccoglierò Nelle mie memorie O scriverò un libro Per le edizioni O ne faremo Quando arriverà Walter Isaacson A scrivere O ne faremo Una puntata digitale No Walter Isaacson No perché poi dice Che non sono empatico E me la prendo E non va bene Gingilli del giorno Signore e signori Mi hanno piacere Allora visto che abbiamo parlato Del grande hacker Kevin Mitnick Franco vi ha suggerito Un libro che va letto Per parte dei fondamentali Ma se volete Vedere un pezzo della storia E vedere non è importante Perché sto portando un film Quello che è uscito in Italia Come Hacker's Down O Takedown E racconta la storia Fra Zomutu Shikomura Shimomura E appunto Kevin Mitnick Di fatto fu quello Che insieme all'FBI Cercò di andare a caccia Perché gli erano entrati Nei suoi sistemi E c'è questo film Poi pare Non perfettamente storico Abbastanza Un po' romanzato Abbastanza pessimo Francesco Se mi posso Però secondo me Io me lo ricordo piacevole No no piacevole Piacevole Ma cioè Molto romanzato Non è una storia Molto romanzato Per fare apparire Appunto Mitnick Non dico come quello Che poteva scatenare La guerra nucleare Con un fischietto Ma comunque parecchio Infamante Molto di più Di quello che poi Era venuto fuori Nelle aule di tribunale Però vabbè Ci sta Non è una fotografia Ma è un film piacevole Gingillus smontatus Mi chiedo perdona Mi chiedo perdona Francesco Mi spiace Infangare così Il nostro Il nostro Mitnick Proprio il giorno Che ricordiamo La sua scomparsa Non mi piaceva troppo Però certo Da guardare Ma fate pinta Che parla di un altro hacker Cum grano salis Da prendere Cum grano salis Michele Allora se siete Utilizzatori Di firefox E volete migliorarlo Per quanto riguarda La velocità L'efficienza E anche la privacy Vi consiglio Questa Chiamo la raccolta Su github Che si chiama Betterfox In pratica È una raccolta Di configurazioni Che si modificano Tramite In parte Le about E about config Ma in realtà Basta mettere Un file Un file unico Di testo Nella Nella cartella Nella cartella Del profilo Ecco E fanno un po' Quello che Dicevo Quindi vi aiutano Velocizzano Andando a rimuovere Delle funzioni Delle funzioni Inutili Come il firefox Sync Poi se vi serve Il firefox sync Ci mettete un attimo Entrare nella configurazione Cambiare soltanto Quello E tenervi Gli altri Gli altri Miglioramenti Ovviamente Gratuito E anche altamente Appunto Personalizzabile Lo trovate Sul repository Di Yoko Fing Che si chiama Betterfox Sono fighissime Questi mod Ma sono anche Possono essere anche Non parlo di questo In specifico Che non conosco Ma possono essere anche Sorgenti Di frustrazione Di frustrazione Non indifferente Io per Safari C'è un tool Che si chiama Stop the madness Qualche cosa del genere Che anche quello Dovrebbe interferire Con Migliorando Safari Andando a eliminare Determinati Quirk Di certi Javascript Che Insomma Il problema È che poi Cosa succede Che a un certo punto Finisci sul tuo sito Dell'home banking E non riesci a fare Un bonifico E Cristoni Per tre anni Contro Sviluppatore Del sistema Della banca Poi dopo un mese Ti ricordi Che c'hai L'estensione La mod E cose installate Provi a togliere Di colpo Il sito Della banca Funziona Quindi Sono cose Da utilizzare Secondo Gigillo Smontato Allora Michele Teniamoci pronti Esatto La prossima volta Veniamo con la riserva Allora In realtà è vero Ed è una delle cose Che mi sono dimenticato Di dire Perché ad esempio L'ho messo Su una delle mie Installazioni Di Firefox Dopo Dieci minuti Che navigavo A un certo punto Errore di qua Anzi C'era un errore Che non mi permetteva Di visualizzare le pagine Andando a guardarmi L'errore Ho trovato Il parametro Di riferimento Nella configurazione Ho cambiato un parametro E tutto tornato a posto È ovvio Vedi certo O andare E va utilizzato Da parte di persone Di persone esperte Tenendo sempre a mente Che se qualcosa Non funziona Può essere quello Certo Un grano salis Sono diventato morte Distruttore di gingilli Adesso mi distruggo Anche il mio Perché vi presento Un gingillo Che è La singolarità Del gingillo È molto facilmente Autodistruggibile Si chiama DocuSeal Ed è bellissimo Anche solo l'icona Perché DocuSeal Serve per sigillare Per fare un sigillo Per autenticare documenti E come Seal è la foca C'è una bellissima icona Di una simpaticissima foca Del musetto di una foca Che fa veramente tenerezza Ed è L'apoteosi del self-hosting Per cui per questo Dovrebbe per forza Piacere al nostro Michele Con DocuSeal potete Self-hostarvi un servizio Di firma digitale Dei documenti Ve la self-hostate Potete C'è il Docker Potete lanciarvela Su Heroku Su Digital Ocean Velocemente Eccetera E avete il vostro servizio Privato Con cui potete scambiare Dei documenti E firmarli digitalmente Come E qui vengo All'autodistruzione Sia sostenibile Di fronte a un qualsiasi Tribunale O in ambito legale Un documento Firmato Su un sistema Self-hostato Io non ne ho La più pallida idea Però Se siete self-hostar Non potete Non potete Permettervi Di non avere Anche un sistema Di firma Dei documenti Self-hostato Volete aggiungere qualcosa Alla distruzione Di questo Dai C'ha detto tutto Io ero pronto Ah ma hai fatto tutto Da solo Perfetto Questo è tutto Magari è vero Poi in realtà Il tribunale Funziona Esatto Chi lo sa Certo Però Non lo so Vedete Anzi se c'è qualche Avvocato all'ascolto Che vuole andare a capire Come funziona esattamente Nel dettaglio Crittograficamente E se è sostenibile A livello legale Fateci sapere Questo E tutti gli altri gingili E tutte le notizie commentate Le trovate linkate Nella pagina di Digitalia Dedicata a questa puntata Per cui Digitalia.fm Slash 684 Prima dei saluti Le raccomandazioni finali Portate fondamentalmente Le orecchiette fresche Cioè le orecchie Dei vostri amici E amiche Proto-digitaliane E proto-digitaliani Li portate su Digitalia Se vi sentite parlare Gli argomenti digitaliani Dite ma come Non ascolti tutte le settimane Digitalia Forza forza Noi ci impegniamo Per farvi fare Bella figura Gli dite di cercare Digitalia Su qualsiasi casellina Di ricerca Sparsa in giro Per internet O per le cartelle O per le app Dei loro telefoni Non cercateci su Badoo O su Tinder Che lì È l'unico posto Dove non ci trovate Però app per podcast Google Grinder sì Così Grinder Ah Grinder Quello Il Tinder Gay Va bene Anche lì Direi che non ci siamo Per questa 684 è tutto La penultima Prima della pausa estiva Dalle mi studio Ligure 1 di Sanremo Un saluto da Franco Solerio Dallo studio di Milano Isola Un ciao Un augurio di buone vacanze Dato che per me L'ultima Da Michele Di Maio E un A settimana prossima Alla settimana prossima Dallo studio di Milano Città Sud Da Francesco Facconi E proprio così Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata Di Digitalia Dallo studio di Milano Ok Allora Francesco mi ha colpito Una cosa che hai detto Urca No no è così Che hai detto Quando parlavi Dei non vedenti Sì E poi hai detto Che però Bisognerebbe chiamare ciechi Allora Ecco Perché una volta Era esattamente Il contrario Perché il termine Non vedenti Era venuto fuori Perché non bisognava Usare il termine ciechi Allora Forse potrei Non aver ascoltato Veragheno Con grande attenzione Ma se ho capito bene Il concetto Dovrebbe essere Che Non vedente È una Allora Grazie.